Donald Trump ha vinto le primarie dei repubblicani in tre stati in un solo giorno, portando a casa 122 delegati. Il tycoon ha festeggiato la vittoria in Michigan, Missouri e Idaho, rendendo il vantaggio già schiacciante su Nicky Alley ancora più grande. In Michigan, Trump ha battuto l'ex governatrice in tutti i 13 distretti. In Missouri la sua vittoria è stata pronunciata meno di due ore dopo l'inizio delle votazioni. Si tratta di un'altra grande battuta d'arresto per l'unica avversaria repubblicana rimasta Trump, che arresta però in corsa fino al Super Tuesday del 5 marzo.